Il problema dei tre corpi, la spiegazione del finale, se anche voi avete finito di vedere la serie e siete usciti da casa con una marea di domande, questo è il video che fa per voi. Come al solito, prima di iniziare, vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube, Ciacchiazione, ci trovate su Facebook, Instagram e TikTok, Ciacchiazione Film e Serie TV, dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie TV. Il problema dei tre corpi è una serie TV di otto episodi che è su Netflix dal 21 marzo, è in vita alla top 10 delle serie più viste sulla piattaforma da alcune settimane, ed è tratta dal romanzo di Liu Cixin, una trilogia di fantascienza che affronta anche temi filosofici e molto interessanti attualizzati al periodo storico che stiamo vivendo. Tra gli showrunner della serie troviamo anche gli ideatori di Game of Thrones della serie del Trono di Spade, David Binoff e D.B. Weiss, e si vide molto la loro impronta all'interno di questa serie TV. Tra l'altro ci sono tre membri del cast di Game of Thrones che ritroviamo qui, uno è Sam, uno è Ser Davo Seward e il terzo è Jonathan Traiss che nella serie del Trono di Spade interpretava l'alto passero. Le riprese del problema dei tre corpi si sono svolte tra la Cina, New York e Londra e con un budget altissimo, circa 20 milioni di euro, è una delle serie più costose per Netflix che comunque sta ancora valutando una seconda stagione, ed è chiaro che dopo che questo finale ci ha lasciato un po' così, in sospeso ci sarà sicuramente una seconda stagione anche per seguire l'arco narrativo dei libri. La storia ruota intorno ad un'astrofisica che da giovane negli anni 60 ha visto suo padre morire dopo una rivoluzione culturale. Lei è costretta poi a mettere le sue conoscenze al servizio del partito lì in Cina e tutta una serie di decisioni che prenderà in futuro porteranno conseguenze estreme per l'umanità di oggi. Ma andiamo dritti al finale. Tutte le decisioni prese da questa astrofisica nel corso della sua vita portano l'umanità ad avere un primo contatto con un'ipotetica civiltà intelligente extraterrestre. La scienziata infatti aveva messo a punto una strumentazione in grado di mandare dei segnali dalla Terra nello spazio. Non soltanto è riuscire a mandare un messaggio nello spazio, ma una civiltà aliena ha anche risposto. E c'è di più, è già tra noi. Sono i Sun T che per comunicare con i terrestri utilizzano prima la radio, e lo vediamo anche attraverso il personaggio interpretato da Jonathan Price, e poi con un videogioco estremamente avanzato, a cui si gioca grazie a un visore VR dal design estremamente futuristico. Una delle domande che ci avete fatto più spesso nei commenti è da chi arrivano questi visori, da chi arriva il primo visore. Vediamo Vera, una impiegata del laboratorio di particelle, che viene trovata morta, che si suicida, e che comunque non sappiamo chi gli avesse dato il primo visore, ma vediamo questo primo visore tutto d'oro, che viene ritrovato e viene utilizzato. Ma a che serve questo visore? Chi gioca deve risolvere il cosiddetto problema dei tre corpi, Cioè, quali sono le orbite di tre corpi, che possono essere tre stelle, o stella, pianeta e satellite, e come interagiscono fra loro in un sistema triplo o più? Perché poi la scienza dice che in un sistema binario è più semplicemente da tre corpi in su, è più difficile capire le varie orbite e i vari meccanismi di movimento e di moto che ci sono, in quanto la forza gravitazionale di tutti e tre i corpi influenza gli altri a vicenda. Perché è stato fatto questo gioco con il visore? Perché gli alieni volevano individuare elementi più brillanti della Terra. Più gli alieni conoscono gli esseri umani e più si convincono che siamo una delle forme di vita più pericolose, che tende a distruggersi a vicenda e distrugge pure il pianeta su cui vive. Ecco perché i Santi, grazie anche alla complicità del culto che è stato creato da questa astrofisica cinese, stanno per arrivare sulla Terra per distruggere tutta l'umanità. Allora, capendo che gli scienziati sono le menti più brillanti dell'umanità, qui c'è anche la contrapposizione fra scienza e complottismo, tendono a farli uccidere e si insinuano nella mente degli scienziati e o li fanno suicidare oppure gli mostrano un countdown e personalmente è stata un po' la cosa più... che non mi ha fatto impazzire di questa serie tv. Però, devo dire, l'ho molto apprezzata e però ci sono questi countdown che appaiono in cielo ad alcuni dei personaggi che non sono stati proprio il massimo per una serie che comunque sia voleva essere verosimile alla realtà e che non è caduta nel banale fin dalle prime puntate. Questi santi a un certo punto fanno conoscere i loro piani facendo apparire sulle stazioni, sugli aeroporti e sui monitor di tutto il mondo la scritta siete insetti e quindi gli esseri umani cominciano a prepararsi, sanno che gli alieni arriveranno fra 400 anni sulla Terra e iniziano a mettere insieme le forze. Qual è l'unico posto dove non possono entrare gli alieni? La mente. Ecco perché vengono scelte tre persone e i loro piani non vengono mai rivelati per non farli conoscere nemmeno ai santi per cercare di fermare questa futura invasione aliena che avverrà fra 400 anni. Nel frattempo Will, che si è ammalato di cancro al pancreas, uno dei personaggi che mi è piaciuto di più di questa prima stagione del problema dei tre corpi, prima di morire decide di far ibernare il suo cervello e di spedirlo nello spazio per tentare di comunicare con gli alieni. Mentre è in volo, Thomas Wade, interpretato da Liam Cunningham, il Ser Davos di Game of Thrones, vede apparire una donna che non è altro che il messaggero degli alieni che gli dice tu sei un ottimo leader e hai sempre fatto parte del nostro piano. La prima stagione del problema dei tre corpi, quindi si conclude facendoci intuire che è stata solo un'introduzione e un'anticipazione a un qualcosa più grande e più ampio che vedremo, speriamo, nelle prossime puntate. Se avete altre domande scrivetemele nei commenti, mi raccomando perché capisco che non è una serie facilmente accessibile a tutti, anch'io ho dovuto rivederla più di una volta. Seguiteci, come dicevo, su YouTube, Ciacchiazione, Facebook, Instagram e TikTok dove tutti i giorni raccontiamo storie, aneddoti e curiosità sul meraviglioso mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!